Circa duemila ettari bruciati negli ultimi dieci giorni. La Toscana e la regione italiana più colpita dagli incendi in questa infuocata estate. Per questo motivo il governatore Eugenio Gianni ha dato mandato ai suoi uffici di mettere a punto il via libera allo stato di calamità regionale che possa far richiedere fondi a livello nazionale e aprire graduatorie per tutti coloro che hanno subito danni. Noi abbiamo lunedì scorso deliberato in giunta a seguito di una mia informativa che sarà redatta una mappa delle aree che potranno accedere alla richiesta di danni per stato di calamità. Sarà Artea probabilmente a procedere a fissare i bandi e a raccogliere queste domande. La Toscana è stata fra le regioni maggiormente colpite, lo è stata perché è un fatto oggettivo. La nostra è la regione che ha più superficie boschiva o di macchia mediterranea. Fra le 20 regioni italiane la più ampia superficie è proprio quella toscana e quindi con condizioni di tempo quali quelle che noi abbiamo, direbbe mio nonno, è tutto secco, ormai non piove da tantissimo tempo. Le condizioni oggettive per che le diffusioni degli incendi possano propagarsi sono sotto gli occhi di tutti. Il rogo più vasto finora è stato quello che ha distrutto le colline della Versilia nella zona di Massarosa, divorando quasi 900 ettari e danneggiando diverse abitazioni. Le fiamme, sospinte dal vento e alimentate dal clima particolarmente torrido, avevano costretto all'evacuazione di oltre 1000 persone, richiedendo l'intervento di numerose squadre di vigili del fuoco, inviate anche da altre regioni, oltre all'aiuto sul campo dei volontari dell'antincendio boschivo e al supporto aereo di elicotteri e Canadair. Stesso ingente sforzo anche per lo spegnimento dell'incendio rivampato in Maremma nei dintorni di Cinigiano, dove sono andati in fumo oltre 700 ettari, tra boschi e terreni agricoli. Dopo ore di apprezzione per la ripartenza delle fiamme, finalmente il rogo è stato completamente domato. A questi due maxi incendi si aggiungono decine di altri piccoli e medi roghi in tutte le province che hanno bruciato in totale almeno 1000 ettari.